L'infezione da virus sinciziale colpisce anche la campania. Sono aumentati gli accessi al pronto soccorso di bambini di pochi mesi per tosse forte e difficoltà respiratorie. Ma per fortuna, almeno al momento, nel reparto di pediatria dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno, i bimbi ricoverati sono pochi. A confermarlo ai nostri microfoni il primario, direttore della struttura complessa di pediatria, il dottor Pasquale Pisano, che chiarisce che non siamo in emergenza. Quest'anno, ha detto, la bronchiolite riconducibile al virus respiratorio sinciziale è arrivata con qualche mese d'anticipo. Lo scorso anno era praticamente scomparso perché, con le misure di contenimento del Covid, avevano fatto sì che non ci fossero in circolazione in Italia casi di bronchiolite. Ora la situazione è tornata all'epoca pre-Covid. Bimbi a scuola, maggiori frequentazioni, anche luoghi affollati, meno attenti alle misure di protezione. È un'infezione delle vie respiratorie, un virus che si diffonde facilmente. In questi mesi occorre precauzione, ha detto il dottor Pisano, una scrupolosa igiene delle mani e l'uso della mascherina e, qualora dovessero presentarsi sintomi, far ricorso ai pediatri di famiglia. Dobbiamo dire che in Campania ci sono varie situazioni, dipende un pochettino dalla geografia. So che nel napoletano cominciano a essere già tanti ricoveri. Fortunatamente noi qui a Salerno non siamo ancora circondati da questa epidemia. Fortunatamente i casi sono pochi, probabilmente per un fatto anche climatico rispetto al nord Italia. Questa è una patologia che si presenta ogni anno. è stagionale e solitamente nel nostro territorio si rende più evidente da dicembre in poi. Negli ultimi due anni non abbiamo avuto moltissimi casi di bronchiolite, ma pochissimi devo dire, ed è stata una conseguenza di tutte le misure di precauzione rispetto al Covid, il distanziamento, le scuole chiuse, l'uso delle mascherine. Adesso cominceremo di nuovo a vedere delle bronchiolite, ma ripeto non siamo assolutamente in emergenza, non c'è bisogno di pensare che ogni raffreddore sia una bronchiolite e speriamo che in tutto questo ci possa dare una mano la pediatria del territorio che sempre molto validamente segue i propri assistiti nel non creare una ressa in ospedale. Purtroppo la bronchiolite arriverà nei prossimi mesi, speriamo in modo non molto imponente, non ci siano tantissimi casi tutti insieme.